Santa merda Wow, guarda che posto E così esiste la troia E' incredibile Quindi? Chissà che dramma doverla lucidare Eh, no Eh, esatto Io però c'è una scala Oh, ehi! Sono riuscito a riprendere il tuo diario da Marlo Pensavo fosse utile Il lupo perde il pelo Ah, ok Che è qua? Eh Vado e provo a farla funzionare Eh No Porca Ok Ok Che cosa è lì? Che devo fare? Tu sta qui Non ho capito Ok Perfetto Perfetto Eh, ci sta andando Sono quasi Eh, ci sta andando Che palle Ci pare normale Ci pare normale Come cosa? Come no? Come no? Mi fa tutto da capo E che? E che è che? E che è che non si sa che la fare E che è che non si sa che la fare Ma questa tecnologia E la... Perfetto 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 Madre Porca vacca Allora è vero L'Atlantide del deserto Perfetto Victor Sullivan Benvenuto a Ubar Ma è bellissimo Stupendo Incredibile E' così che la città è riuscita a prosperare E' così che la città è riuscita a prosperare Questo posto deve essere collegato a una sorgente sotterranea E' pulita E' incredibile che funzioni dopo tutti questi anni Ma è l'Adi in ritardo Perfetto Pazzo Davvero impressionante Ma? Cosa? No Ma raga l'Adi in ritardo No raga No Ti prego Falli Che cazzo dite? Oh Tutti i bastardi Pezzi di merda Ma vabbè Ah, ragazani! Wow, Cristo è quello che era! ma non muoiono non muoiono ma che cazzo il rica oh 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 bastardo di fame senza vergogna rica no no ancora quattro c'è questo quattro c'è andato ma ancora ora ok non mi dire che ci sono i demoni ci sono in possesso dei cristiani qua ah ciao no no non puoi torna qui l'urido figlio di puttana di nuovo in inseguimento tutta merda ecco andiamo si blocca mi hai sentito sei morto no ma ma che cazzo ma ma impossibile dove cazzo sono questa è cartagena non venivo qui da quando ero un ragazzo eh tu hai conosciuto victor che succede è pure oh no oh merda no rega i ragni no no rega i ragni no ma brutti bastardi ma no no c'era addosso e che siamo tornati a venezio no no No! No! E per forza, regà! Oddio! Cosa? Vedete che mi hanno drogato di nuovo! Si muove, zezzo. Devo andarmene. Devo andare via. No, no, no. Non ce la faccio. Che cosa? Che succede? No, regà! Tant'otto è la drogata, no! E ora? Che succede? No, regà! Mi sta facendo venire il giramento di testa! Brutto, brutto, brutto! Brutto così, no! Non c'è riuscito di pescarci, non c'è riuscito solo però èыл 보� Devo ucciderli! R habitual, rotto! Sì, 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 sì. Ah! Ah, almeno l'ho fatto dalla lontana. Almeno questo. E' vero? Non si può tornare indietro, giusto? Non si può tornare indietro. E' vero che si c'è da? Ah? Ah! Amore! Amore! Perda! Porca puttana! Ah, non puoi cerrarmi questa. E' vero che è impossibile. È impossibile! È impossibile! E' un po' essere venuto! Non è reale! E' un po' essere venuto! 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 Non è reale! E' un po' essere venuto! 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 Che cosa sta? Pezzo di merda Ah, io li c'è Bastardo Sully? Sully 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 No, no, no Sully io No, no No, no No, no Ok quindi Che tocca fare Che tocca fare Mi sta venendo un giramento di testa Assurdo No Scusate Che tocca fa Che tocca fa Oh Capitargo C'è qualcosa qua Che forza No No Dunque quello che volete Poi diametemi di settimana notifica Anche no 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 Bisogna fare il giro della madonna per niente Quello cos'è? Ragazzi ma sono io? Ok, oh mio Dio Non ha alcun senso questa cosa Non ha veramente senso Quindi non sono più fatto Non male, ah Non sono più fatto No, almeno Non mi verrà il giramento di testa allora Eccoli là Ora ci divertiamo, strozzi Ok Grazie.